Grazie a tutti. Sì, il bidello. Se non sei il bidello, allora sei... Il nuovo insegnante di storia. Fucsia. Fucsia! A me piace. Per la prossima settimana, pensate a come portare avanti il corso. È un ordine ovviamente. Sì, capo. È stato un onore, capo. Grazie, capo. La prossima settimana, pensate a come portare avanti il corso. E io ho capito che in gruppo siamo più forti. Ognuno deve essere libero di fare quello che vuole. Noi siamo massa critica! Noi siamo massa critica! Noi siamo massa critica! Ho preparato questo per massa critica. E questo è il nucleo, fatto di tanti elementi, che però sono una cosa sola. E qui si sprigiona l'energia. Genio! Buongiorno ragazzi! Buongiorno, capo! È il momento di far sentire la nostra voce. Io sono stanca di stare sempre zitta, di accettare sempre tutto. Anch'io penso che dovremmo far sapere a tutti di massa critica. Forse dovremmo iniziare a pensare un po' con la nostra testa. Magari potrei preparare dei volantini o creare una pagina Facebook, un gruppo. Federico, mi guardi su Wikipedia se sotto la voce di rapper super finissimo c'è la mia faccia. Rapper italiani che perepe qua 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 perepe. Politici italiani che perepe qua 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 perepe. Più vogli e meno avrai, più tagli e meno prendi, prima lo si impara, poi... Forse non è più il caso di fare certe battute. No, forse è il caso che stai un po' zitto. Ok, adesso basta! Niente male. È il momento di essere forte. Viva massa critica! Sempre! Arrivederci ragazzi. Arrivederci, capo! Arrivederci ragazzi.